Un accordo che rappresenta intanto un atto di grande civiltà politica in un paese nel quale sembra prevalere l'imbarbarimento nei rapporti pubblici e privati. Una dimostrazione che quando si sta nelle istituzioni l'elemento del rispetto reciproco, la volontà di collaborazione debbano essere prevalenti su tutto. Abbiamo opportunità che possiamo sfruttare nell'interesse delle nostre comunità. Cominciamo a impostare un lavoro per aprirci strade verso il futuro nel campo della portualità, nel campo della ricerca scientifica, nel campo della logistica. Credo che possiamo fare un lavoro integrato, Liguria e Campania, nell'interesse delle due regioni.